Sei educatore, arbitro, sei un dirigente, accompagnatore, sei un po' tutto. Però com'è, è bellissimo lavorare con questi. La prima esperienza che faccio con questi ragazzini di questa età, sono educatissimi e poi è stupendo per come si rapportano, per come vivono il calcio a differenza dei più grandi. Genova Calcio che è una società che punta molto insomma anche sull'educazione dei ragazzi, sul farli crescere nella maniera migliore dentro e fuori dal campo. Sì, sì sì sì, ma è uno degli incipit che ci viene dato dalla dirigenza dall'inizio dell'anno e lo portiamo avanti questo discorso di livello caratteriale dai più piccoli fino alla juniores. Un bel gruppo, ampio abbiamo visto, molto affiatati. Sono 20 ragazzi, sono molto affiatati e bisogna ancora migliorare perché non si passano abbastanza il pallone, cercano di giocare troppo da soli, quindi bisogna migliorare sul gioco corale. Mattia, voglio chiederti come ti trovi con i tuoi compagni qui alla Genova Calcio. No, bene, tranne, vabbè, giocano bene, sono forti, abbiamo le squadre. Un bel gruppo. Sì. Che partita è stata? Ti sei divertito? Sì sì, molto. Senti, dimmi un po', hai un giocatore preferito tu? Sì, è qua in... Quindi ti piace giocare dove? In attacco? Sì. Kevin, come ti trovi con i compagni? Benissimo, è già da un anno e mezzo che sono qua, ma mi trovo molto bene qua. I mister come sono, bravi o ti tirano le orecchie? No, bravissimi. Più bravi di così, non so dove li trovi. Senti, ma la partita di oggi ti sei divertita, è andata bene? Sì, moltissimo. Oltre al risultato mi sono divertito tantissimo, è stata molto bella. Matteo, allora che partita è stata? Bella, anche sia per il risultato, anche come abbiamo giocato. Giocato bene, tu hai segnato, ne hai fatti un po'? Un po', sì. Qual è quello che ti è piaciuto di più? Un po' tutti? Sì. Senti con i mister com'è il rapporto, come sono bravi o ti tirano le orecchie? Un po'... Un po' e un po'? Sì. Nicolas, com'è stata la partita? Ti sei divertito? Sì, mi sono divertito tantissimo e la partita era bella. Con i compagni come va? Com'è il rapporto? Come ti trovi? Benissimo, con i compagni. Hai tanti amici? Sì. E i mister invece? C'è qui che ti guarda, insomma, devi stare attento, eh? Sono bravissimi. Bravissimi? Sono bravi, però. Va bene, te dove ti piace giocare? Dove giochi? In che ruolo? O difensore o alla destra.